D'Artemide, l'ingegnere Ernesto Gismondi, presidente dell'azienda, di fianco a questa meravigliosa lampada è un progetto veramente innovativo che rispetta l'ambiente, fa risparmiare, è un oggetto realizzato con le bottiglie di plastica riciclata. Quella è la grande idea di questi signori, di tutto lo staff tecnico dei sei, è quella di utilizzare un materiale di quinto ordine, trattarlo in maniera opportuna e fare in maniera tale che faccia più luce ancora e che sia praticamente, non è indistruttibile, è riciclabile, forse è quasi la stessa cosa. Esatto, ma poi la peculiarità di queste lampade è che si possono piegare e riporre? Questa è la cosa che direi più importante perché le vedi, sono lì, vengono normalmente spedite così, piatte, in una scatola piatta, prendi questa, la stringi così e diventa tutta piccola. Senta, e com'è nata questa, chiamiamola Joy Inventure, tra voi? Joy Inventure è nata dal fatto che il signore Sei Miyake, che non è nato oggi ma era già in grande auge nell'81 quando abbiamo fatto Memphis e lui, chiamato da Ettore Sozzas, doveva essere uno dei membri dei designers di Memphis. poi c'è stato un piccolo disguido per cui noi dovevamo inaugurare Memphis e lui non era ancora arrivato con i suoi disegni e quindi non ci siamo visti ma dicendo facciamolo alla prossima tornata. Poi ci siamo lasciati nella vita, io facevo le mie cose e lui continuava a fare le sue con un grandissimo successo e finché io sono andato a Tokyo perché dovevo andare a vedere gli affari di Artemide per capire cosa succedeva, dopo i disastri che erano successi, se i giapponesi ce la facevano o ce l'avrebbero fatta, i giapponesi ce l'avrebbero fatta molto bene perché è un popolo che sa incassare anche le disgrazie, riprendersi e fare, questo va bene. Per noi questo è un segnale per Artemide perché è quello che succede. Poi passando in Yokohama ho guardato le vetrine che vado sempre a vedere, specialmente le sue e ho visto gli abiti stupendi, tutti a pieghe, tutti fatti come al solito così, allora l'idea sua è di farlo con le lampade, le lampade vengono con questa tecnica assolutamente, parte dai fogli, sono un foglio fatto di un doppio materiale, un materiale più solido, più rigido e un altro invece che è tessuto sempre dello stesso materia prima, unico, per cui dopo col computer viene inciso leggermente e poi sono riusciti a trasfondere quella che era l'immagine in un tridimensionale che poi riusciva a comandare al computer a come si fa a tagliare il tutto. Grazie a tutti.